Il CT Roberto Menichelli a Messina, tra i docenti del corso per allenatori di calcio a 5, intanto qual è il primo impatto con gli allievi e quali i contenuti del corso? Beh, impatto con gli allievi buono, come del resto succede sempre in tutti i corsi, poi è un corso della FIGC e come tutti i corsi della FIGC ci sono più materie, tra cui tecnica e tattica del futsal, ma insomma non solo questo, perché c'è metodologia dell'allenamento, psicologia, medicina, carte federali, regolamento di gioco. Al di là appunto della tecnica e della tattica, quanto è importante l'aspetto psicologico e motivazionale per un allenatore nel cercare di saper trasmettere le proprie idee al gruppo? Beh, è un aspetto importante dell'allenatore, perché l'allenatore è molte cose, certamente a volte non basta essere preparati da un punto di vista tecnico, tattico, ma da un punto di vista anche della didattica nell'ambito degli allenamenti, ma il ruolo che svolge l'allenatore da un punto di vista della motivazione, sull'aspetto psicologico assume risvolti importanti, addirittura qualche volta fanno la differenza nel vincere o perdere una partita. Ovviamente in questo genere di corsi cerca di trasmettere agli allievi il suo bagaglio di esperienza, dal 2009 sulla panchina della Nazionale, un'avventura che l'ha regalato grandi soddisfazioni. Sì, beh, intanto in questi momenti io sono qui come insegnante, pertanto riporto quello che la scuola allenatore italiana ha nei programmi didattici. Poi è chiaro che laddove gli allievi mi chiedono qualcosa di personale sono pronto a riportare la mia esperienza di allenatore, che come ha detto lei insomma si accompagna a quella dell'insegnante ormai da qualche anno e che fortunatamente insomma negli anni abbiamo fatto abbastanza bene con la scuola nazionale. Un oro agli europei del 2014, anche un bronzo, sempre agli europei è un bronzo ai mondiali, il palmarès è stato abbastanza ricco. Sì, è stato ricco, purtroppo non abbiamo avuto la forza di ripeterci ad altissimi livelli nell'ultimo europeo perché siamo usciti ai quarti di finale, però certamente dopo un ciclo che possiamo dire vincente perché come ricordava lei il bronzo all'europeo in Croazia, c'è il bronzo al mondiale di Bangkok dietro al Brasile e alla Spagna che qualcuno ha considerato un bronzo che valeva oro perché insomma mettersi alle spalle Argentina, Russia, Portogallo, Iran ma stare dietro solo ai più bravi in Europa e nel mondo per l'Italia voleva dire tanto. Poi addirittura è venuta la cosa inaspettata, cioè la vittoria di un campionato d'Europa. Certamente abbiamo toccato sulla nostra pelle quanto sia difficile vincere e continuare a vincere. Questa è un po' la sfida che ognuno di noi ha ricercato, ricerca e che non è facile da portare avanti. Oggi poi faremo delle valutazioni perché dopo tanti anni che questi giocatori giocano insieme, bisognerà anche capire se tutto questo gruppo di lavoro ha ancora possibilità di esprimersi ai massimi livelli. Da una sua prima impressione quella partita è stata un episodio o visto anche il girone era ottimo o invece un ciclo che si è andato a chiudere? No, non lo so, adesso faremo le valutazioni del caso. La partita era molto difficile perché il Kazakistan nei quarti di finale valeva dire incontrare la squadra nazionale che all'interno aveva gran parte di una squadra di club che negli anni ha vinto la UEFA Futsal Cup quindi la competizione europea per club, una sorta di Champions League del calcio. Per cui la partita era molto difficile e noi sappiamo questo. Io se devo fare un'analisi molto così, come dire, anche a freddo, bisogna anche dire che i nostri giocatori hanno sbagliato un tempo sui sei giocati perché tre partite alla fine di una qualificazione del girone preliminare, l'Italia aveva vinto 3-0 con l'Azerbaijan, 7-0 con la Repubblica cieca e tutti la guardavano come una possibile di nuovo minaccia per la vittoria ancora di un campionato d'Europa togliendo la Coppa ancora ai migliori, cioè gli spagnoli e i russi, eccetera. Poi dopo c'è stata la partita col Kazakistan, è chiaro che a quel livello lì, se tu sbagli, è difficile recuperare. A noi questo è successo, abbiamo fatto degli errori ed è giusto che poi alla fine abbiamo perso perché quando si gioca a livelli molto alti, ad armi quasi pari, è chiaro che andare sotto di 2-0 non è facile recuperare, poi recuperavamo e non eravamo abbastanza bravi a mantenere il recupero ottenuto perché 2-0, 2-1, 3-1 dopo pochi secondi, 3-2, la partita era di nuovo aperta, invece ci hanno fatto il 4-2 per cui abbiamo sbagliato, abbiamo perso e quando si perde bisogna fare i complimenti a chi ti batte. Ritornando a un aspetto magari più piacevole di questa parentesi sportiva, lei torna spesso con piacere qui in Sicilia per fare i corsi, cosa le piace di più di quest'isola? Molto, mi piace molto. Sono venuto molte volte per i corsi, ma poi sono tornato anche da solo, non per lavoro, ma in vacanza, perché è una terra molto bella, mi trovo bene con la gente, poi c'è molto, c'è arte, buona cucina, sole, mare bellissimo, quindi è una terra molto bella che, ripeto, ci torno sempre molto volentieri per lavoro, ma non solo. Qual è il momento del fuzz a livello siciliano? Il fuzz al siciliano diciamo che per storia, tradizione, è stato sempre un movimento importante. Negli ultimi anni forse se dobbiamo trovare qualcosa da migliorare è l'assenza di una squadra di vertice nel massimo campionato nazionale, quello di serie A, perché credo che la Sicilia potrebbe ben rappresentare il fuzz al nazionale ai massimi livelli, ci starebbe bene una squadra molto competitiva nelle province della Sicilia importanti, come in anni passati, insomma, abbiamo avuto modo di vedere. Però per il resto credo che, insomma, ripeto, sia da un punto di vista della tradizione, ma anche da un punto di vista del movimento regionale, comunque la Sicilia rimane una regione leader in Italia per quanto riguarda il fuzz al.